Un saluto a tutti, io mi chiamo Luca Occhi e sono qui per parlarvi del nuovo romanzo che uscirà per Pelle d'Occa Editore dal titolo Il mistero del cadavere senza testa. La storia si svolge a Bologna agli inizi del Novecento e racconta di Emilio, un ragazzino che sopravvive tra furti ed espedienti per le vie di uno dei quartieri più malfamati della città, assieme alla banda dei topi, altri ragazzini come lui senza famiglia. L'arrivo di un bizzarro turista inglese, frequentatore di osterie, dedito al bere, al gioco d'azzardo, piuttosto che alla visita dei monumenti della città, offre a Emilio l'opportunità di guadagnare qualche moneta ponendosi al suo servizio. Ma sia Emilio che il misterioso turista inglese nascondono un segreto e la scomparsa del conte Lodovico Gisberto Testa Piccolomini difforzerà nei meandri di un'indagine complicata e pericolosa, avvicinando poco a poco questi due mondi tra loro così distanti, vincendo la reciproca diffidenza. Su tutto alleggerà il fantasma del detective più famoso di Inghilterra, che è Elementary, è Mr. Sherlock Holmes. Auguro una buona lettura a tutti.